Illuminare a festa 100 km di strade e 20 piazze di Napoli partendo dalle periferie per poi arrivare al centro della città. E' questo l'obiettivo del bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Napoli con un investimento da 1,5 milioni di euro. Le Illuminare di Napoli potranno diventare realtà quando le imprese chiamate a partecipare presenteranno i progetti e li realizzeranno in maniera fattiva. Dopo aver illuminato per il secondo anno la zona ridosso del Duomo di Napoli in concomitanza con le festività di San Gennaro, l'ente preseduto da Cirofiolo appunto ora dare un contributo fattivo alla rinascita del tessuto commerciale cittadino, immaginando una nuova illuminazione natalizia. Per il prossimo Natale la Camera di Commercio metterà in campo l'illuminazione di circa 100 km di strade e 20 piazze. Si partirà dalle periferie di Napoli ad arrivare al centro. I quattro mesi di Covid ci hanno rallentato l'azione, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto bandendo una gara europea. Adesso l'impegno per le imprese è di partecipare per poter realizzare quanto noi abbiamo deliberato e messo in campo. Il valore è un milione e mezzo di euro. Nel momento che avremo grandi soddisfazioni, sono convinto per questa prima nostra esperienza, già siamo in campo per il 2021 con grandi sponsor e là nascerà il vero evento Illuminiamo Napoli con tutte le strade e stradine di Napoli, non solo, ma anche tutti quei beni che gli altri ci invidiano per un'illuminazione totale di tutta Napoli.